Salve, sono l'autista che ha portato a casa la sua ragazza. Non è la mia ragazza. La cazza di credito non era valida. Entra. Ecco qui. Roba da ricchi. Senti, pagati la corsa e mettici anche una bella mancia, eh? Già. Non mi chiede se è arrivata sana e salva? A questo punto di solito do la possibilità di rimediare, ma non stasera. Stasera voglio videocamere, cellulari, qualunque cosa abbiate usato per filmare quello che le avete fatto. Hai bussato alla porta sbagliata, nonno. Ok. 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 Tornare!